Lei è la racchetta da padel più sottovalutata della storia di questo gioco. Abbiamo deciso di illuminarla col sole quest'oggi perché merita di essere illuminata. Di che racchetta parliamo? Nox M... anzi, Miguel Lamperti. Stop. Basta dire questo, dici? Basta dire questo. E tutti quanti capiscono che parliamo della ML10 Pro Cup. Penso che sia la 158esima edizione di questa che fanno. È nata prima la racchetta e poi il padel. Cioè questa qui è nata... Ho questa racchetta che fanno, aumentiamo questo gioco e mettiamo... www.swappadel.it la trovate lì, questa racchetta. Ringraziamo i ragazzi di Swappadel per permetterci di recensire tutto questo. Fermo, fermo, la trovate lì e vabbè, la potete trovare un po' ovunque. Ma solo da swappadel.it la trovate con il 15% di sconto. Black Lovers 15, 15% di sconto se volete comprarla. Ma potete anche noleggiarla e questo è un discorso che faremo più tardi. Intanto, padel-lovers-italia per seguirci su Instagram e su TikTok dove l'abbiamo anticipata di tanto questa racchetta. Ma andiamo a parlare di lei. Allora, forma, cominciamo dalle basi, forma tonda. Anzi no, cominciamo dalle basi. Troviamo anche qui il classico laccetto Nox con polsiera. L'abbiamo già detto per quanto riguarda, quando abbiamo fatto il video della T10-18K. Nox ha fatto il laccetto perfetto, o quasi. Nel senso, polsiera giusta. Lunghezza dell'accetto giusta, ma poi hanno introdotto questo piccolo gommino nero che serve a limitare la corsa del cappio. Questo ci permette di tenerla al polso, fare così col gommino, e questo non ci muove più. Non c'è più bisogno di fare ogni volta tac tac tac. Tu pensa all'ingegnere che è andato a dire, fare così col gommino, come facciamo? Fai così col gommino, grazie ai ragazzi di Pater Lovers che si sono lamentati della lunghezza della polsiera. Sono bravi i ragazzi, seguiteli i ragazzi, i ragazzi. Poi, questi inserti rossi che vanno a sostituire l'Esagor, li potete tranquillamente, li dovete tranquillamente togliere perché non servono assolutamente a nulla. Non è vero, il manico è leggermente più lungo del solito, non ci piace il fondello, non ci piace questo piruletto qui sotto che non permette la presa ergonomica nel momento che fai gli smash per chi adora mettere il migliorino sotto il tappo. Il tappo ha il foro centrale, o comunque c'è il piruletto centrale, il laccetto è intercambiabile. Nella confezione di Nox che esce comunque con la custodia, esce solamente un laccetto, mentre gli altri anni usciva anche con quell'altro laccetto non ergonomico. Il manico, come diceva Daniele, è più grande, l'hanno ingrandito per migliorare l'impugnatura perché anche questa è stata una lamentella di tutti, soprattutto la nostra che era troppo fino e piccolo, l'hanno ingrandito quest'anno. Allora, i piruletti che diceva Marco in silicone si chiamano custom grip, che chi piace, chi non piace non ci interessa semplicemente perché sono totalmente amovibili. Quindi Nox li pone sopra al grip, va un over grip sopra, li potete customizzare come volete, li spostare in basso, togliere, mettere, metterne solo uno, metterne solo due, potete fare esattamente come volete. A me non dispiacciono, Marco li odia. Ma sapete, la cosa buona è che si tolgono facilmente, come diceva Daniele, si spostano tranquillamente verso il basso e si possono tranquillamente togliere facendoli scorrere sopra o sotto, quindi meglio così, meglio questo che ne sa cosa che per toglierlo serviva un ingegnere. Esatto, a livello di telaio i cambiamenti non sono enormi, la forma è la stessa, è un tondone classico, l'AVS, l'antimubration system tipico di Nox è rimasto e fa sempre il suo dovere. Anche qui troviamo l'EOS flap, che non è altro che questo piccolo foro in questa parte del telaio sia di qua che di qua, che serve uno a migliorare l'aerodinamicità della palla, quindi il flusso dell'aria. Questi qui vanno a sostituire i gommini classici di Nox, in questo caso i gommini che prima si trovano qui li troviamo leggermente più bassi. Che funzioni hanno? Solamente funzioni estetiche? No, perché servono anche ad assorbire le vibrazioni, quindi a ridurre che sul nostro braccio arrivino le vibrazioni nocive. Prima che arriviamo al piatto, al peso e alla gomma, devo dirvi tre cose fondamentali. Questa è la serie Luxury, piatto sabbiato, serie normale, piatto liscio. Prima che poi ci chiedete che differenza c'è tra la Luxury e la normale, la Luxury c'è il piatto sabbiato, la normale no. No, punto. Seconda cosa ragazzi, questa è la racchetta che tutti devono avere nel proprio zaino. Dall'istruttore per fare lezione, a chi gli fa male il gomito, a chi vuole una racchetta, una seconda racchetta più morbida per giocare le partite un po' più tranquille. Terza cosa, curiosità. Tanti c'è scritto, perché c'è la scritta service qui? Solamente da un lato della pala? Sul ponte da un lato c'è scritto service qui. Noi abbiamo chiamato da chi abita sulla Luna, chi su Marte e chi sullo spazio ufficiale e ci hanno risposto che i distributori italiani di Nox hanno detto che c'è la scritta service per indicare il piatto principale. Noi abbiamo detto, in che senso? Che questo piatto cambia da quest'altro piatto? No! Sono identici. Dice che per indicare il service sta sulla fascia del piatto principale. A livello di durezza, di rigidità, non cambia nulla. Sono uguali. Il piatto principale o seconda portata, io non so. Io con un tornino ne sto. Però ci hanno scritto service qua sì e qua no. Quindi qua non la fate vedere, fatela vedere dalla parte... Questa è la Nox, non la fate vedere da qua. E non vi sbagliate soprattutto a servire da quest'altra parte perché la pala è la Nox. Quando vai a servire, servi qua perché magari da qua floppa. Ok, vai. Apro e chiudo parecchi. Questo scritto service è scritto su tutte quante le Nox, non solamente su di lei. Piatti 3K carbon. Allora, loro ci dichiarano un 3K e fino a qua ci può stare. Io ci credo pochino perché secondo me un'antichetta di fibra di vetro ci sta. Perché? Perché i piatti sono molto elastici. Non è il classico carbonio 3K rigido. È pur vero che all'interno troviamo la classicissima HR3 di Nox, che ormai conosciamo benissimo, che dà quel senso di morbidezza, quel senso mash mellow, anche a vederla, un po' mash mellow la gomma. Sì, però diciamo che l'hanno lasciata così alla fine, cioè l'hanno lasciata tenuta, una racchetta che va bene perché cambiarla, l'hanno lasciata così, perfetta. Quindi sì, ci piace, sì, è la racchetta che dovreste avere, che vi serve per avere una racchetta leggera perché pesa? Pesa 368 grammi. Ha un bilanciamento a 25,9, quindi non è neanche troppo basso, è una racchetta che ci sta, ma soprattutto ragazzi è veramente bella. La stavo rivedendo e mi dice innamoro, ogni volta la vedo mi innamoro perché è veramente bella, bianca, nera e con questa X centrale, tutta cangiante che va dal grigio al verde all'oro al celestino, è veramente bella, non so se si vede ma è veramente veramente bella. Tutta la superficie dei piatti è sabbiata, come diceva Marco, tranne la parte del telaio, il telaio è un full carbon, l'unica parte che non è sabbiata è questa parte qui sotto dove troviamo tutte le indicazioni con le caratteristiche della pala che invece è lucida. Io la definisco confortevole perché come vedete poi negli scambi in campo dall'alto c'ha quel, sì l'effetto masce meno, ma quel toc che si sente che non ti fa sbagliare. Diciamo che da fondo campo anche Daniele no? Da fondo campo ragazzi se avete l'attitudine a gestire il gioco, a cercare di piazzare la pallina, anche a ridurre e gestire i ritmi, lei è perfetta. Il punto dolce non esiste, cioè il punto dolce di questa palla non c'è, perché è talmente tanto grande che abbraccia tutta la palla, non puoi dire che c'è il punto dolce, perché questa è punto dolce, la palla è punto dolce. Non c'è veramente il rischio di steccata, la disposizione dei fori è la classica, da fondo campo è vero che serve un pochino di braccio per mandarla magari di là con velocità più importanti. È vero che a ritmi eccessivi va gestita, quindi lei si trova meglio su ritmi non eccessivamente alti, ma è pur vero che ti dà, sei nella tua zona di comfort, la comfort zone c'è lei. Cioè se tu vai sul dizionario e vedi comfort zone nel paddle esce la sua foto. Quindi consigliata a tutti i livelli. E consigliata a tutti i livelli, soprattutto ai livelli basici, quelli che vogliono crescere un pochino, che ancora peccano un po', oppure chi vuole avere una racchetta, una seconda racchetta che vado a fare una partita seria e mentre tranquilla non mi vado a devastarmi il gomito o il braccio, l'ho di dito. Esatto, dal principiante all'intermedio, all'intermedio avanzato è una racchetta che noi straconsigliamo. Come dicevamo, vedete gli scambi qui sotto, da fondo campo lei è tanta roba perché ti permette anche qualche errore in più, non c'è quel rischio steccata, non c'è, è molto stabile come il racchetto. Sotto rete, nelle volè, nelle smorzate, è vero che i piatti sono molto elastici, quindi magari nelle smorzate bisogna attutire un pochino il colpo, ma sotto rete dice la sua. Non vi aspettate una pallina che schizza via. Sì, non è che va, ma la fucilata, ecco, però se l'accompagnate bene va dove dite voi, cioè se l'accompagni il colpo va dove dici tu. La troviamo su swappadel.it, codice sconto Black Lovers 15 a novembre per il 15% di sconto. Fino al 30 novembre 15% di sconto. Dopo novembre, chi dovrà dopo novembre verrà picchiato, ma avrà un codice sconto Padel Lovers del 10%. Ma la novità di swappadel è che le racchette si possono noleggiare. Questa racchetta si trova nella fascia di 15,50 euro al mese, quindi perché non provarla, perché non avere questa formula innovativa del noleggio? Ragazzi, i ragazzi di swappadel sono davvero molto carini. Chiamateli per qualsiasi informazione per il noleggio, seguiteli sui loro social e andate tutta l'occhia da sul loro sito. Esatto, e poi seguiteci su Instagram e su TikTok perché spiegheremo nel dettaglio come e in che cosa consiste il noleggio. Vamos!